Buongiorno, ci troviamo ad Anacapri, in via nuova del Faro, all'interno di questo compresso immobiliare. La notte di sabato sera è stato portato a segno un furto ai danni di un'anacaprese e i ladri hanno rubato, introducendosi attraverso una porta-finestra lasciata precedentemente semi-chiusa, quindi semi-aperta, a circa 10.000 euro tra gioielli preziosi. Le indagini sono in corso, ci sono i gabini di Anacapri che stanno portando avanti.